Eri senza sonno, e lì pitticci dove vai contemplando, li passo di una notte fino a giorno, perché io non posso ora riposare, non aveva pace più, sta per lì tu guardi. Amici dell'ascoltatore e demiratori, purtroppo anche oggi la mia trasmissione è terminata, spero che anche questa trasmissione è stata di vostro gradimento, vi ringrazio del GT l'ascolto, e vi invito ad ascoltarmi domenica prossima alla stessa ora, ancora una volta il vostro Tonio di Brun,